Perché la presenza del diavolo, stasera non l'ho inventata io, ma è una presenza che noi troviamo nella scrittura fin dalle prime pagine, cioè da quando l'uomo è stato tentato. Giovanna compagna Franca, Franca compagna Giuseppina e alla fine tutti però sono tenuti al segreto il silenzio e alla fine il risultato qual è? Che in Italia su 65 milioni di abitanti 12 milioni ogni anno ne corrono i maghi. Io credo che la preghiera è sempre importante perché la preghiera infonde comunque fiducia, mentre alcuni medici si limitano a dire basta, con questa cura abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità, non c'è niente da fare. Il sacerdote non può dire mai non c'è niente da fare perché gli rimangono sempre tante altre possibilità.